La CISL, che è sempre stata un'organizzazione, diciamo, un po' cattolico, presenta anche questa mattina questo libro. I motivi? C'è questa questione politica dei cattolici? Ma c'è sempre stata e sarebbe strano immaginare di non doversi interrogare su questi temi. Al netto delle questioni che saranno oggetto poi della discussione di oggi, anche con Franco Vittoria, che ci offre sempre dei grandi spunti, a noi tocca trarre anche quelle che sono le nostre idee, le nostre conseguenze, anche per quale sindacato vogliamo costruire, qual è il cambiamento che intercettiamo e soprattutto quali sono i valori sui quali continuare a fondare poi la nostra azione. E questo è un campo a noi amico e quindi faremo di tutto perché quelle idee, quei buoni propositi possono essere d'aiuto anche a vivere meglio la condizione poi di rappresentanza. Professore Vittoria, allora c'è questa questione dei cattolici? Si sente nella politica un vuoto oppure attualmente eppure no? Il libro cerca di indagare quello che è la storia del cattolicesimo politico, quindi dal 1861 dopo l'unità d'Italia con l'intradingentismo dei cattolici fino a giungere a quello che è il codice dei camaldoli, quindi per la ricostruzione anche di un mondo. Naturalmente noi stiamo in presenza di tentare di fare una operazione perché oggi la politica è fratturata dalla cultura e quindi il primo dato è quello di mettere insieme cultura e politica. Io ringrazio la segretaria generale della CISL che non solo è sempre attenta ma ha questa capacità di saper cogliere queste opportunità culturali che possono far crescere tutti noi. Per cui la questione cattolica in questo paese e anche la lezione che ci dà oggi in questi giorni la conferenza della CEI, quel documento contro l'autonomia differenziata credo che sia una chicca per chi deve leggere che in questo paese i cattolici hanno ancora una dimensione verso il futuro e possono servire a costruire quello che è un dato importante che io cerco di raccontare nel libro, l'umano. Mettere al centro l'umano in questo tempo, si parla tanto di intelligenza artificiale, significa recuperare ascolto, dialogo e significa recuperare organizzazioni perché questo tempo ha bisogno di organizzazioni sindacali, di partiti e soprattutto di questa dimensione, quello del cattolicesimo politico.